buongiorno amici buongiorno amiche direttamente da indiegogo abbiamo car pc un device molto richiesto da voi molto conosciuto nel settore ma che in pochi hanno licenzito perché ancora non è in vendita ufficiale ma è in vendita solo su indiegogo con una sorta di raccolta fondi e se voi versate un tot vi mandano questo che è un po a metà tra un prototipo e quello che sarà poi quello ufficiale cioè se andrà in porto il progetto diventerà ufficiale vi dico subito vi faccio vedere il retro che vi dice un po le caratteristiche vedete in realtà il mio ha sì il processore mediatek come gli altri ha sì il sim per lo slot per mettere una sim dati ma il mio non ha il gps e ha solamente 3 gigabyte di ram e non 64 quindi un po la mia è la versione sfigata diciamo vi dico subito che una volta collegato al pc viene visto dal computer come se fosse collegato un ulephone che è un un brand cinese che produce smartphone di fascia bassa e tra le altre cose il modello in questione adesso non mi ricordo la sigla ve la metto nel nella descrizione del video è un vecchio ulephone con android 9 e un mediatek di quelli vecchio stampo quindi che scaldano e non proprio performanti quindi sostanzialmente loro che hanno fatto hanno messo dentro questa scatolina questa sorta di pennetta l'hardware di uno smartphone e lo hanno collegato al vostro cellulare al vostro alla vostra auto la la luce carina qua non si vede bene di notte forte anche troppo forse la plastica non è non è chip ci sono vedete chi la dissipazione c'è la dissipazione c'è lo slot per espandere la memoria che nel mio caso è solo 32 e per inserire una sim dati se quindi volete dargli la connessione con una sim sua proprietaria senza doverla prendere dal vostro smartphone in tethering senza doverla prendere da fonti esterne quindi una volta inserito fate il conto che avete inserito uno smartphone android infatti lui vedete qui vede uno smartphone android anche il display dice guarda hai collegato un era scritto car pc adesso se è disconnesso comunque non so che cosa ha fatto comunque collegare il cellulare ha perso la connessione bluetooth infatti io vi comincio già ad anticipare che ho riscontrato diversi bug nonostante io abbia l'ultimo firmware presente sul sito non mi funziona perfettamente o può essere colpa anche della mia auto non lo so vedete lui da solo random si collega si scollega guardate adesso dice che ha collegato car pc ha fatto tutto da solo allora apriamolo vedete il classico è il launcher del dei smartphone cinesi di qualche anno fa infatti lui è uno smartphone cinese di qualche anno fa collegato alla vostra auto io ho avuto la premura di collegarlo sia al bluetooth che di collegarlo la mia auto si è collegato alla mia auto si è collegato alla mia auto e il bluetooth mi sono collegato e ho fatto il pairing vediamo se allora essendo collegato alla mia auto si apre youtube e infatti vedete si è aperto potrete visualizzare anche in movimento youtube vedete è partito e lo sto ascoltando sulle casse della mia auto chiudo perché ho quasi finito il credito sulla mia sulla mia auto del dei giga e quindi disponibili quindi è meglio stoppare usciamo quindi come va lui va youtube music vanno le altre app presenti e soprattutto vanno tutte le app che voi vorrete inserire col play store come vi dicevo la mia è la versione senza gps quindi per navigare dovrete utilizzare android auto e il gps dello smartphone se invece prendete la versione con gps su indiegogo troverete anche quella qui vi pingherà il gps e vi andrà anche un po' più forte perché il mio ha solo 3 gigabyte di ram sinceramente credo che ce ne vogliano 4 proviamo allora qui non c'è niente perché servirebbe la sim cioè se io qui avessi inserito la sim dati e per le telefonate potrei navigare utilizzando la sim dati e telefonare con il numero della sim inserita io in questo momento sono collegato al bluetooth del mio smartphone quindi credo proprio di non poter telefonare così ma di dover utilizzare android auto facciamo una prova vedete la telefonata non parte è caduto cioè qui me la mette nella lista chiamati ma vedete anche se la rifaccio non parte vabbè poco male qua su apparsa l'icona di android auto allora diciamo ci collegheremo ad android auto lui dice che siamo connessi ad android auto io però in realtà non ci sono riuscito vedete è il classico il classica icona del anzi no volevo fare un'altra cosa perché lui diceva che ero connesso a due device in realtà a sto punto io mi vorrei connettere solamente allo smartphone senza collegarmi a questa mi voglio disconnettere da questa e rimanere connesso solamente al mio smartphone vediamo che succede no si connette da sola la macchina anche se io mi disconnetto non ne vuol sapere non capisco perché non vede adesso il mio il mio samsung ma vede solamente un oppo che sarà di qualcuno che qua nelle vicinanze vediamo niente il mio il mio samsung non lo vede forse perché siamo connessi ad android auto secondo lui e quindi e quindi la mia la mia connessione bluetooth è attualmente utilizzata dal da android auto va bene ok vediamo se qui c'è l'icona di android auto non c'è l'icona di android auto io non la vedo vediamo se è sul desktop niente purtroppo io sono diventato mezzo pazzo con questo con questo device non sono riuscito mai a far funzionare android auto sicuramente voi sarete più bravi di me io vi farei le conclusioni per me è un'ottima idea è un'ottima idea perché lui a differenza degli altri box quando lo collegate alla vostra auto questo non vi dice che avete collegato un carplay un iphone ma vi dice che avete collegato un android questo non è poco perché perché non perché non perderete quelli che sono i comandi al volante non perderete l'utilizzo del del cruscotto delle informazioni qua eventualmente di spotify la lista chiamate se io ho collegato un carplay un filtro carplay qua non vedo la lista chiamate non vedo le copertine spotify non posso usare i comandi al volante ma devo per forza chiamare fare tutto da qui essendo lui visto essendo lui sostanzialmente un telefono android che viene collegato qui questa era una cosa bella è sicuramente una particolarità di questo car pc e però nonostante io abbia l'ultimo software sinceramente ho riscontrato diversi diversi bug almeno nella mia audi non funziona bene magari in altre auto funziona io ho avuto delle disconnessioni qui ogni tanto qui ogni tanto si connette si sconnette da solo io android auto non sono riuscito a farlo funzionare nonostante qua vedete nonostante qua ci sia l'icona di android auto a me non ha mai funzionato prima che prima che facessi reset qua c'era l'icona android auto ma io la premevo e non mi andava su android auto quindi diciamo che bella l'idea ma ancora acerbo oppure sono stato sfortunato io con la mia con la mia macchina quindi valutate voi se aspettare la versione definitiva o buttarvi su questa versione in prova che potrebbe funzionare perché ci sono diversi video in rete di auto su quali funziona bene sulla mia audi ho avuto dei problemi e ho provato ho l'ultimo software l'ultimo firmware ma non è cambiato nulla un saluto a tutti ci vediamo presto con delle novità in arrivo ciao